Allora siamo con un ragazzo dell'Aquila, daremo il nome di fantasia, lo chiameremo Mario e questo ragazzo ci vuole raccontare la sua storia, ce la racconta questo ragazzo Mario Aquilano da sempre, è nato all'Aquila, è cresciuto all'Aquila Mario che succede dopo il terremoto, che cosa ti succede? In pratica io già da prima del terremoto ero senza pisse di mora, avendo fatto la domanda comune per avere un alloggio popolare, l'ho sempre rinnovato e dopo il terremoto sono stato mandato ad Albariatica, in cui sono stato circa 8 mesi, dopo di lì mi arriva una telefonata e mi dicono se mi vorrei avvicinare all'Aquila e io accetto, però esponendo il mio problema che era il fatto economico che non lavorando mi sarebbero dovuti venire a prendere per portarmi all'Aquila perché da quel giorno si cominciavano a ripagare anche gli autobus e quindi mi è stato detto di aspettare, mi telefonano una certa persona di martedì in albergo e mi dice che in pratica io entro 48 ore avremmo dovuto lasciare l'albergo perché non avevo più requisiti per rimanere in albergo, al che io mi sono legato in questo albergo, al termocitone dell'albergo, facendo chiamare l'assessore Fabio Berlini perché essendo dell'Aquila conosco anche la persona, dopodiché mi è stato detto che dovevo venire all'Aquila. Questi soldi non mi è venuto a prendere nessuno e questi soldi mi sono stati dati dall'alberdatore dove stavo. Poi che succede? Venendo all'Aquila? Dopodiché venendo all'Aquila e tramite l'assessore Berlini sempre, dopo quando sono arrivato, mi ha detto che per una settimana sarei dovuto stare alla Caritas di San Gerardino, che sarebbe di Pareguirino. Sono andato, mi hanno accettato, i primi due giorni sono stato da solo. Che periodo era, ricordiamolo? No, dicembre, la settimana di Natale. In pratica mi sono legato alla Caritas, sono stato ospitato, dopodiché ero dentro, c'era un ragazzo marocchino di colore, marocchino, che in pratica questo ragazzo mi si è avventato sopra e io non ho reagito rispetto a questa cosa. Dentro quel posto si vive? Non si vive tanto bene, anche perché dopo 3-4 giorni che io stavo mi hanno fatto cambiare stanza, sono dovuto andare a stare con altre due persone. La sera prima, la sera stessa, per due sere ho dormito con questi due ragazzi e dopo è successo il fatto che ho dedicato con questa persona che lavorava per la Caritas, dormiva alla Caritas, e in pratica... Hai dovuto? Siamo arrivati a... lui è arrivato, mi si è avventato con un'accetta, però io non sono andato né in ospedale né in denunciato, perché per miei motivi personali, insomma. E alla mensa che cosa è successo? Sì, c'erano queste due persone che dormirono insieme alla stanza con me, Aquilani lo stesso, di cui si sono messi in mezzo e poi si è sedata la rissa e mi sono andato e ho passato la notte di Natale fuori. Un giorno dopo mi sono regato all'hotel Firenze... Della che sta dentro la... ricordiamo l'hotel Firenze che è dentro... Guardia di Finanza. E da lì ho cominciato a chiedere di farmi dare una mano, non sapendo più dove dovevo andare, che cosa fare, perché dal terremoto io non ero più venuto all'Aquila. Dopodiché sono stato aiutato da alcune persone e mi hanno... ho fatto una domanda per il sussidio, cosa che io mi hanno chiesto una tantum. In pratica io non l'ho mai ricevuto. Ho cercato di prendere l'appuntamento con la Pezzopane. Forre Stefania Pezzopane assessore delle politiche sociali del comune dell'Aquila. Mi hanno dato due appuntamenti, sono andato, non mi ha mai ricevuto. Ho litigato anche dentro il comune con la dottoressa Sanzano. Tu hai cercato di coinvolgere determinate persone? Visto che io sono cittadino aquilano, sono aquilano, anche se sono senza fissa dimora, ho sempre vissuto all'Aquila, da quanto sono nato. Penso di avere due cognomi che sono nati e cresciuti e pasciuti all'Aquila, se vogliono glielo dimostro. E io non capisco perché vengono aiutate le persone... Io non è che sono razzista. Le persone di fuori e le persone dell'Aquila vengono buttate in un posto e rimesse là. È come un'auto rimessa, di vecchie auto. Come si sta alla Scuola Guardia di Finanza? Com'è la situazione secondo te? In un certo senso per me è buona. Io non avendo un tetto, là sono un tetto. Però non è piacevole. E stando lì vedi che le persone che vengono aiutate e le persone che non vengono aiutate. Io mi sono reso conto di questa cosa. Cioè secondo te c'è qualcuno che prende qualcosa che non gli spetta? C'è una persona che è stata data la casa, una persona anzi, una persona che viene di Roma, che sta là, che non è dell'Aquila e dorme là, mangia là e lui sta là. Non sono mai stato chiamato da nessuno, non ho mai ricevuto da nessuno, cosa che a me questa cosa mi dà fastidio. Perché io sono un cittadino aquilano. Conosco il sindaco Massimo Cialenti, conosco il per Paolo Petrucci. Capo di cabinetto del... Capo di cabinetto. Quindi tramite questa persona che non faccio nome ha preso e gli ha detto di darmi 50 euro fino a quando non avrebbe fatto il... non avrebbe dato il sussidio. E lui mi ha detto che lui non faceva parte della Caritas, gli è stato risposto. Quindi questa cosa a me dà fastidio. Io, se posso aiutare un aquilano, l'aiuto. Se mi viene uno straniero di fuori, se non ce l'ho per me, non posso aiutarlo. Proprio un aquilano, io mi faccio metà con l'aquilano, non con uno di fuori. Senti, tu hai chiesto anni fa, anche prima del terremoto, anche una casa popolare. Anche qui vedi, dal tuo punto di vista... Io ho visto che tanti stranieri davanti a me hanno preso la casa. Cioè, tu credi che alcune persone non abbiano i requisiti per prendere quello che prendono? Questo è il messaggio che tu hai? Non so anche che c'è una... non faccio i nomi. C'è una ragazza che io conosco benissimo, che è stata una senza fissa di mora come me, e questa ragazza è stata dalla casa. Non so come abbia fatto, come io sono senza fissa di mora con lei. Cioè, io sono come lei. Io sono un senza fissa di mora perché allora lei sì e io no. Io questo voglio sapere, una risposta a questo. C'è chi sì e chi no. Ci sono le cose per chi sì e per chi no. Poi so che ci sono case vuote. Ci sono anche tanti alloggi, tanti appartamenti vuoti. So che ci sono persone... Qualcuno li ha presi, qualcuno no. Esatto. Poi ci sono le persone che si stanno là per fare il numero, secondo me questo è. Stanno là per fare i numeri. Senti, alle istituzioni che cosa... qual è il tuo messaggio? Che cosa chiedi? Perché tu hai dal 2000... insomma da metà degli anni 2000 diciamo che hai chiesto un alloggio. Io se possibilmente chiedo di essere aiutato in noi, adesso io sto alla finanza, io per me, io un tetto ce l'ho, però vorrei essere sistemato. Trovarmi un lavoro, darmi la possibilità di trovare un lavoro, di poter campare io personalmente. Perché così se io domani esco dalla finanza, io mi dirò un mezzo alla strada e vado a rubare. A me se vado a rubare a 43 anni non mi va. Cioè non mi va proprio. E... credi che in questo momento qualcuno, vista la campagna elettorale, ti possa ascoltare oppure...? Io spero di essere ascoltato. Cioè te lo aspetti più adesso o...? Io me lo aspetterei adesso. Adesso, cioè da prima, ma non soltanto per me, ma anche per le altre persone. Perché ci sono persone che stanno nella stessa mia stessa situazione. E ci sono persone che, per esempio, faccio un esempio, c'è stata la neve, la nevicata. La protezione civile non ci ha portato neanche da mangiare. Ci siamo dovuti andare a prendere da mangiare noi che abbiamo dovuto... Voi eravate alla guardia di finanza, eravate praticamente sepolti i vivi. In pratica dall'hotel Sassari all'hotel Firenze, c'era mezzo metro di neve, di cui i vecchietti non potevano camminare. Non si poteva salire né con le macchine né a piedi. Abbiamo fatto la stradina, siamo arrivati, cioè siamo arrivati fino all'SG. Quindi da soli? Da soli, insieme alle persone che lavorano là. Ascolta, intima domanda. Tu hai avuto nella tua vita qualche problema? Molto. Alcuni problemi di droga e di dipendenza dalla droga. Il tuo problema in questo momento è sociale? Sì. Quindi tu però adesso stai bene e hai la testa a posto, hai messo la testa a posto? Io mi voglio aiutare da solo perché le forze ancora ce l'ho. Proprio la possibilità di darmi una possibilità e io questa possibilità non la vedo da nessuna parte. Ho bussato, continuo a bussare, ma niente risposte. Sono stato rifiutato, questo sì, rifiutato. Cioè ti hanno promesso, ti hanno detto che ti avrebbero... Mi avrebbero aiutato e io lo stavo rispettando. Mi avevano detto prima e dopo. Vuole lanciare un messaggio all'assessore e alle politiche sociali Stefania Pezzopane? Ogni tanto si preoccupasse veramente dei problemi che ci sono all'Aquila e non delle cazze che fanno in giro. Ma dei problemi sociali dell'Aquila non sono il solo, ce ne sono altri dei casi. Io lo vedo, stando alla finanza ci conosciamo poi le persone dell'Aquila. Quindi io la Pezzopane la conosco per sentito dire, ma io personalmente quella signora Pezzopane non mi ha mai ricevuto e non ci ho mai parlato. mai parlato con la Pezzopane. Avendo avuto anche tramite altre persone, sempre delle persone che lavorano presso la Guardia di Finanza, mi hanno dato, mi hanno preso appuntamento, però questa persona a me non mi ha mai ricevuto. Quindi tu chiedi di poterti confrontare e di poter dire? Di poter dire la mia, perché quando vedo un PC di un amico che sta aperto e vedo la Pezzopane che dice che sta facendo per il sociale, se permetti a me da partire. Perché io credo che io non sono un rifiuto, sono una persona aquilana e penso di essere, di voler essere aiutato. Devo essere aiutato, perché sennò che ci stanno a parlare. Io per quanto riguarda me ho avuto dei problemi, sì, in passato, però non penso di volerne continuare ad avere. La prima cosa che ti viene in mente è che quando vai in giro, cioè io non avendo soldi, non avendo niente, cioè io purtroppo vengo costretto ad andare a fare cose che non voglio fare. Non le voglio fare e non le faccio. Noi ti ringraziamo perché la tua testimonianza sicuramente verrà ascoltata, almeno per quello che hai detto. Quando riguarda l'assessore Perini, se invece mi ha aiutato ad andare in albergo, però vedo che dopo c'è, quindi non so io adesso i problemi che ci sono e le cose. Comunque, io il messaggio che voglio lanciare è di aiutare le persone veramente che hanno bisogno. Straniero o uno straniero a me non mi interessa, almeno ogni tanto, oh beh come va, una botta da sopra la spada penso che fa piacere da tutti quanti, però questo invece io non lo evo. Tu hai fatto anche una domanda, hai partecipato anche a un bando? In pratica tramite il PC sempre di un amico che stava aperto, ho visto che c'era il bando per 60 alloggi senza pista di mora, questa domanda sono stato scartato. La motivazione quale è stata? La motivazione dice che stando alla finanza non avevo diritto a questa cosa, a chi è stato alla finanza. A chi è che hai fatto questo bando? L'ho fatto la pezzopane. Quindi con le politiche sociali tu hai fatto? Sì, ho fatto la domanda al comune via Roccocarabba, sono salito su al secondo piano il sociale, ho parlato anche con, come si chiama, sia con la Salsano che con la del Principe, ho parlato anche con la del Principe e mi è stato detto che io avevo a questi 60 alloggi che c'erano là, ho reddito zero, e la richiedeva il reddito zero, presenza fissa di mora. Ma tu dalla finanza prima o poi dovrai uscire? Cioè che cosa ti hanno detto quando ti hanno mandato lì? Questa domanda... Puoi vivere là, puoi vivere in pianta stabile, puoi restare lì e come... Guarda, io non credo, perché quello non è una... Non è un'abitazione? Non è una bella, c'è una camera, c'è una camera dove io ho tutte le mie cose che poi dopo diventano sempre tante, a riempire la stanza delle mie cose che c'erano prima e dopo. Quindi non è sufficiente per vivere, poi lì non è che puoi fare come se c'è una casa. Invece c'è una stanza, 24 ore su 24, guarda la televisione, che poi nemmeno si vede tutta questa televisione, perché a volte l'hanno spenta, anche per tre giorni. Quindi, cioè, non vedo la... Credi che tante altre persone abbiano voglia di dire le stesse cose che dici tu? Sento le persone nel complesso di tutte le strutture che stanno là a disposizione per il popolo, per i cittadini, insomma. Io spero che ci siano delle opportunità anche per noi. Visto che ci sono... io vedo, vado in giro per l'Aquila, vedo che ci sono case vuote, oppure case che vengono assegnate a persone anche che secondo me non gli spettano. Noi ringraziamo questo ragazzo di cui non abbiamo voluto rivelare l'identità, perché adesso non ci sembra giusto la sua testimonianza. È una testimonianza che va presa per quello che è, cioè l'esperienza di una persona che vive in un determinato momento. Crediamo che le istituzioni debbano fare tutto il necessario affinché queste situazioni all'Aquila via via non accadano più, perché l'osservatorio di Abruzzo Web è quello che vedono tutti gli Aquilani. È molto chiaro, le persone sono in difficoltà, vivono in difficoltà, non vedono la fine del tunnel e noi questo vogliamo fare con questa testimonianza. Ringraziamo Mario e speriamo di ricevere buone notizie il più presto, perché tu ci racconterai i passi successivi sicuramente e qualora te la dovessi sentire lo farai a volto scoperto perché non hai nulla da nascondere. Grazie.